e ora è il momento della radiovisione mi raccomando tutti insieme per parlare di Giorgio Gaber è un personaggio che con la musica e non solo ci ha accompagnato almeno personalmente sin dalla tenera età e ancora oggi mi accompagna oltre 40 anni credo di attività in cui ha spaziato da tutto è partito dalle canzonette dalle canzonette anche se erano belle canzoni silenzio perché mi avete spoilerato il mio colpo di scena guardate qui questa è una locandina è una locandina che indica che il 12 maggio quindi tra qualche giorno alle ore 19 a Roma presso l'Alexander Plaza in via Ostia 9 ci sarà lo spettacolo Giorgio Gaber il teatro canzone e a fare tutto questo Luca Martella attore e tanto altro benvenuto benvenuto Luca benvenuto a Radio Vaticana grazie è un piacere un onore ecco come sei riuscito innanzitutto ad avere la possibilità di interpretare Gaber perché la fondazione insomma è stata sempre un po' restia no a concedere diritti allora quante ore abbiamo a disposizione allora faccio un piccolo un piccolissimo cappello io devo tutto a mio padre perché mio papà aveva un cinema anzi mio nonna aveva un cinema e mio papà come puoi leggere sarà il chitarrista della nostra band perché oltre a Luca Martelli ecco diciamoli anche sì Massimiliano Staderini al piano maestro Staderini al pianoforte Mauro De Lorenzi al basso Maurizio Brioni alla batteria Giancarlo Martella alla chitarra questa volta purtroppo non ci sarà anche mio figlio al sassofono ah quindi una famiglia di artisti per un suo impegno non potrà essere presente io sono cresciuto nel cinema sono cresciuto e mio papà appunto suona la chitarra da sempre e mi ricordo che da bambino ci suonava sempre la Torpedo Blu che ovviamente vengo a prenderti stasera con la mia Torpedo Blu uno dei brani più famosi Stefania e quindi poi crescendo ovviamente ho un po' seguito questo mio percorso naturale e mi sono scritto all'accademia mi sono diplomato e la cosa curiosa e simpatica è che il primo monologo ma veramente il primo monologo che mi hanno messo sotto questo naso un po' alla grega diciamo un naso importante diciamo un naso importante fu la paura meraviglioso monologo di Giorgio Gabber e i miei insegnanti mi dissero un po' alla sordi no? America facce Tarzan e mi dissero dai Martè facce Gabber e io dico ma come dico ma si ce lo ricordi benissimo questa spalla questo naso questi capelli questo tuo sorriso questo modo di noccolato un po' ce lo ricordi tanto dai e quindi da lì tra l'altro la paura per chi ha seguito Gabber come noi nel corso della carriera tu ci insegni che ha avuto due o tre finali diverse sì è stato un po' modificato le paure sono cambiate meraviglioso pezzo e tu hai finito per assomigliargli e poi dopo insieme a Pino Quartullo insieme a Pino Quartullo anni fa allora diciamo pure che Gabber morì purtroppo ci ha lasciato il primo gennaio del 2003 ecco io da quel momento da quel momento ho cominciato non solo a sentire l'ombre su una mancanza e in qualche modo ho pensato che un giorno avrei voluto portare il teatro canzone a teatro in qualche modo per ricordarlo però ho impiegato sette anni perché avevo paura c'era questo timore reverenziale a proposito di paura a proposito di paura sì esattamente e quindi la prima rappresentazione è stata nel 2010 quindi sette anni dopo e lo spettacolo si intitolava sulle orme del signor G il famoso signor G tu rappresenti solo il Gabber impegnato diciamo che inizia con una scelta di campo precisa il teatro canzone per poi diciamo approdare ad una sorta di solitudine diciamo così oppure parli anche del Gabber chansonier del Gabber presentatore come tu hai detto della Torpedo Blue sì sì della Torpedo Blue sì insomma penso che ricordiamo benissimo che lui ha cominciato con la canzone anzi con le canzonette che però non erano mai canzonette c'era sempre un testo ecco a me quello che mi appassionava di cui mi sono innamorato era proprio questa intensità drammaturgica e poi ecco vorrei ricordare e dobbiamo farlo che tutto quello che ha scritto Giorgio Gabber lo ha scritto insieme a Sandro Luporini tutto a quattro mani e anzi volevo ricordare che il primo giugno ci sarà un proprio perché Luporini è innanzitutto un pittore loro si sono conosciuti negli anni 60 a Milano quando c'erano i Tenko, Mogol a quel tempo e quindi io ho conosciuto casualmente diciamo il suo gallerista Adriano Primo Baldi e il primo giugno a Viareggio che il comune di Viareggio ha acquistato tutte le sue opere dal primo giugno ci sarà una galleria permanente della metà cosa perché appunto Luporini è un pittore uno dei maggiori esponenti di questo movimento della metà cosa e insieme hanno creato tante storie insomma e poi l'idea del teatro canzone e loro hanno inventato il teatro canzone si rifà un po' diciamo come dicevi giustamente tu un po' agli chansonniers francesi a Jacques Brelle che lui insomma apprezzava non a caso Luca Martella oggi ha ovviamente un maglione a collo alto da esistenzialista che nero classico anche Gap stesso aveva il maglione non potevo altrimenti ti spiegami una cosa insomma tutti abbiamo assistito io mi ricordo teatro olimpico teatro brancaccio a Roma erano i posti scelti io andavo a seguirlo anche io andavo a seguirlo nel momento in cui gli terminava un monologo una canzone scattava inevitabilmente l'applauso lui aveva una sorta di fremito di... sì cioè come se vivesse anche lo stato d'animo dello spettatore no assolutamente lui sul palcoscenico e io questo l'ho saputo meglio quando ho conosciuto Sandro Luporini a casa sua a Viareggio sì ha un po' rappresentato quella classe sociale ha un po' rappresentato l'amore la rabbia soprattutto e Gabbere ti emozionava però ecco non vorrei essere troppo edulcorante perché lui insomma ti come dire ti invitava non solo ti imponeva quella riflessione perché sì è vero che ti dava una carezza però anche uno schiaffo sì potevi essere d'accordo o no però ti invitava a pensare assolutamente assolutamente infatti questa è la cosa meravigliosa del teatro canzone questa struttura sì o no ricordo io anch'io ho seguito varie fasi della vita artistica di Gaber mi ricordo però verso la fine della sua attività perché purtroppo è scomparso troppo presto aveva poco più di 60 anni 63 anni 63 anni è una degli ultimi spettacoli che ho visto a Roma qui credo al teatro olimpico e pensare che c'era il pensiero e pensare che c'era il pensiero c'era una amarezza un'idiozia conquistata a fatica esatto un'idiozia conquistata a fatica è un titolo fantastico ecco un'amarezza una tristezza che assolutamente sì diciamo che Gaber sul fine della carriera della sua si è sentito anche molto solo e abbandonato dal suo pubblico perché ricorderete bene che da da polli di allevamento lui ha cominciato a dare a parlare di voi si rivolgeva prima parlava di io noi da quel momento ha preso le distanze dal suo pubblico ed è stato molto criticato beh perché polli di allevamento è un'esortazione a uscire dagli schemi assolutamente però forse e forse non era ancora pronto il pubblico la cosa meravigliosa di questo spettacolo che è ancora attuale è stato scritto questi sono pezzi scritti 50 anni fa ci sono dei brani andatevi a vedere perché ci sono su youtube quando è moda è moda guardatemi bene guardatemi bene che è una una frustata veramente nei confronti del pubblico guardatemi bene come mi avete ridotto come mi avete ridotto è vero ecco ma perché non ci regali qualcosa è un'anteprima dello spettacolo ricordo Stefania all'Alexander Plaz sì il prossimo 12 di maggio Alexander Plaz qui a Roma in via Ostia 9 tra l'altro è un posto molto bello in genere ospita jazz assolutamente diciamo è un po' il gota del continuo ad essere da anni da anni il gota del jazz internazionale ecco qualche domenica fa c'era e e adesso via dei matti via dei matti numero zero ah sì aiutatemi chiedo perdono chiedo scusa Stefano Bollani Stefano Bollani con la moglie ma insomma l'altra sera ho visto Cavie Girotto con tutta la sua band una cosa meravigliosa sì sono anni che lo frequento sì sì un posto veramente ideale per rappresentare Giorgio Gabri ma ti chiedevo sì insomma ci hai fatto un accenno di guardatemi bene ma insomma c'è qualche piccolo monologo che ci puoi regalare oggi a noi e agli ascoltatori della Radio Vaticana guardo in macchina guarda in macchina vorrei regalarvi questo meraviglioso monologo che è un po' sul bilancio della vita l'equazione e quando fuori dalla tua finestra il cielo si fa un po' più grigio e quando dentro di te avverti quel profondo senso di amarezza e quando senti quella crescente mancanza di energia e quando ti senti profondamente solo e depresso ecco quello è il giorno dell'appuntamento col tuo bilancio sentimentale col bilancio della tua vita generalmente non è un bel giorno ma non tanto perché il cielo si fa un po' più grigio quanto perché tu ti fai un po' più schifo dunque vediamo un po' il lavoro beh il lavoro non manca voglio dire c'è anche chi ce l'ha ma generalmente non gode impegno sociale morale civile non ne parliamo mi viene da ridere e la salute oh beh la salute la salute finché uno ce l'ha non ci pensa non resta che l'amore la sfera degli affetti dei sentimenti che poi dentro ognuno di noi diciamo è quello che riveste un'importanza fondamentale no e poi almeno quello l'amore ce lo scegliamo da noi un disastro ma se si fallisce sempre ci sarà un perché no una ragione dov'è che uno sbaglia chi sbaglia colpa mia colpa tua colpa mia colpa no io a quelle cose lì non ci credo l'errore deve essere prima ma non una cosa recente probabilmente da bambini sì certo un errorino piccolo impercettibile che ha condizionato tutta la nostra vita affettiva chissà forse il famoso Edipo forse mamma ce n'è una sola oppure nonni zii fratelli sì insomma immagini ricordi fotografie dell'infanzia che restano dentro di noi per tutta la vita sì certo un errorino piccolo impercettibile che poi col tempo si è ingigantito moltiplicato fino a diventare gravissimo irreparabile già ma perché l'errore si ingigantisce deve essere un po' come quando andavamo a scuola e facevamo le equazioni algebriche cioè tu fai un errorino no una svista un più o meno chi lo sa e che poi te lo porti dietro e nella riga sotto cominci già a vedere degli strani numeri e dici vabbè tanto poi si semplifica e poi numeri sempre più grossi incontenibili sgraziati disgraziati dei vostri schifosi e alla fine x uguale 472.835.412 fratto radice quadrata di 87.411.013 più c e ora provate un po' voi a semplificare non c'è niente da fare la matematica deve avere una sua estetica x uguale a 2 bello la semplicità forse per fare bene un'equazione è sufficiente avere delle buone basi ma per fare una storia d'amore vera intensa duratura bisogna essere capaci di scrollarsi di dosso tutta quella vernice indelebile con cui abbiamo dipinto i nostri sentimenti e qui e qui scatta l'applauso idealmente anche insieme ai nostri ascoltatori Luca Martella grazie veramente per averci mi hai ricordato proprio ho rivisto Giorgio Gabber le espressioni che tu hai interpretato ormai lo ho perché tu stai interpretando un interprete lo reinterprete c'è una difficoltà ulteriore sì ovviamente non mi permetterei mai di fare una stupida imitazione certo non avrebbe proprio senso questo è il tuo modo di rappresentarlo di rappresentarlo fai delle citazioni diciamo sì assolutamente questo spettacolo è bellissimo sono tutti i monologhi e le canzoni che abbiamo conosciuto dagli anni 70 al 2000 da La libertà io non mi sento italiano qualcuno era comunista mi fa male il mondo lo shampoo la torped bull il cerutigino porta romana è un'antologia è un'antologia emozionante poi soprattutto come sempre appunto Gabber poi soprattutto ci invita alla riflessione Alfredo Mario Mariella ci ringraziano per questo spazio dedicato a Giorgio Gabber evidentemente anche loro l'hanno scelto tra le cose da ascoltare nella loro vita e continuano ad ascoltarlo ecco grazie a Luca Martella per questo monologo che è stato una delle cose che io ho gradito di più di Giorgio Gabber grazie a voi grazie a te e noi volevamo salutarti perché siamo in procinto dell'informazione lo spazio dell'informazione delle ore delle ore nove e volevamo salutarti ecco invitando tutti allora il 12 maggio all'Alexander Plaz di Roma via Ostia ore 19 lo spazio di radiodivisione termina qui grazie ma noi continuiamo con la radio e Radio Vaticana con voi continua grazie a tutti Grazie a tutti